Se vi chiedete perché sono in un altro posto, beh, ve lo spiegherò più avanti nel video Ma intanto, oggi giochiamo al dungeon pauroso, infinito pure addirittura, ragazzi Cioè, questa cosa è pazzurda, è veramente pazzurda E chiedo scusa per l'eco Adesso vi spiego fra poco Ma intanto prendiamo tutte le cose che ci offre questo dungeon Allora, qui in teoria si inizia Oh, guardate qui dentro Che figata Allora, qua dice il necromanzo Ha avuto cose, ha avuto la cacarella, mi dice No, mi dissocio, stavo scherzando, non è vero Ok, ho trovato una chiave, questa chiave la possiamo utilizzare Io ho visto che le chiavi si possono utilizzare per aprire queste porte qua, vedete? E queste porte qua ti portano più avanti nel dungeon Però intanto dobbiamo anche stare attenti Dobbiamo collezionare tutte le cose che troviamo Tipo tutti i bauli Che ti permettono di avere oggetti utili per superare i dungeon Tipo delle armi, tipo delle bottle of experience Che non so cosa voglia dirci C'è tipo delle bottigliette di esperienza E altre cose del genere Tipo... no, gli scheletri non ci servono ancora Però questo sì che ci serve per esempio Cos'è che mi dà? Un caspita di niente Beh, però invece questo mi darà qualcosa No, mi dà niente, vabbè Però andiamo avanti Sicuramente abbiamo altre cose da fare Beh, qua ci sono degli scheletri che dobbiamo uccidere Quindi via voi schifosi Guardate, questo è un dungeon abbastanza complicato Però, avanti Continuando sempre avanti In teoria riusciremo anche a sconfiggere tutti I mostri, i cattoli che si nascondono all'interno di questo dungeon Inoltre devo dire che gli scheletri qua sono molto carini Molto belli Cioè, devo dire, complimenti a chi ha sviluppato questo Grandissimo dungeon Allora, porca miseria però Io mi sto rompendo le scatole Un pochino Perché non muoiono mai Oh, bene È morto Per fortuna Posso prendere questo? No, 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 no Dove è finito? Avete visto che tutti quanti mi si stavano lanciando addosso È anche questo Mi hanno colpito Schifosi Scurreggioni Io non ho parole, veramente Ok Ho ucciso tutti i tizi E mi ha dato tipo questa cosa qua Beh, questa cosa qua potrebbe essere utile Affinché noi riusciamo ad aprire un'altra porta Non so come sto parlando E non so nemmeno perché sto parlando in questo modo Ma fate finta E ha funzionato Wow Sono contento Però prima di tutto andiamo A vedere se ci sono altre casse E non mi sembra ce ne siano Ok, va bene, va bene Tanto mangio è perché Serve mangiare nella vita Ovviamente Se no si muore Se non si mangia Lo sapevate? Non so se lo volevate sapere Però insomma non è bello se non si mangia Qua c'è una TNT Che mi esplosa E mi ha dato Ma dai ma che deficiente Eppure io che Tocco il TNT Ma la devo smettere di toccare ogni cosa Oh mio dio Qua avete visto che mi stavo ammazzando Cioè che scurreggione Ok ho ucciso anche l'ultimo scheletruzzolo Devo dire Oh ok Cos'è che Mi ha dato un'altra chiave Perfettamente Adesso apriamo anche il prossimo Coso Chissà cosa ci aspetta Però prima apriamo questo Che è molto buono Giusto? Ok Devo dire è molto buono Secondo me comunque possiamo aprire Con questa chiave Qualsiasi tipo di dungeon Quindi io ti puoi dire Di provare ad aprire questo Esatto Allora Praticamente vi spiego Cosa è successo Mentre andiamo avanti In questi dungeon paurosi Abbiamo cambiato casa Stiamo trasbloccando E questi corrono Anche sti pazzi Avete visto Sono più performanti Degli altri Hanno più possibilità Di uccidermi Ma Vorrebbero uccidermi Non possono Mi spiace Nel senso Io sono troppo forte Per loro Certo qualche colpetto Riescono anche a darmelo Vabbè comunque Abbiamo trasbloccato casa Stavo dicendo E quindi Questo Ecco perché mi vedete In una posizione diversa E ovviamente Tranquilli Diciamo I pannelli Insomma tipo Il volume tornerà normale Come al solito E Oddio Ho visto qualcosa di strano Mi stavo spaventando E qui E la madonna Che spavento E quindi Niente Questo Tornerà fra poco Tutto quanto a posto Chiaramente Tutto quanto a posto Muori Ok bene No perché se no Non moriva mai Eh scusa eh Muori anche tu Dai Che non ho tempo È pieno di pazzi Raga No 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 Sto scherzando Ma avete visto Ma mi stavano ammazzando male Oh Un'altra chiave Ok perfetto Adesso Ma comunque io ho visto Che comunque si possono rompere Queste casse E ti danno tipo cose Ecco tipo cibo Per la maggior parte cibo Vediamo se qua in giro Ci sono altre casse da aprire Ma non credo Quindi potremmo Ipoteticamente Andare alla prossima stanza Che in teoria Ci riserva altri scheletri Sì però hanno rotto le scatole Questi Cioè non voglio più giocare Con gli scheletri Vedete Mi graffiano tutto Sono pazzi Vedete Cioè Poi questi qua Corrono A differenza degli altri Sono più performanti Più Veloci Più Atletici Nonostante siano scheletri Che quindi non abbiano muscoli Però Questo è un altro conto Che brutti che sono Mamma mia Che brutti Che brutti Un'altra chiave Possiamo aprire anche questa cestona E non c'è niente Perfetto Qua ci sono delle monete Le monettine però Belle le monettine Le ho prese tutte Che bello Sono troppo contento Adesso invece Andiamo anche Alla prossima stanza Sì però Mamma mia Che pallio Ma sempre tutti uguali Ma basta Guardate cos'ho La spadona Inaderite Ora riesco a distruggere Tutti questi scheletroni In men che non si diconi Muori Scurreggione Che non Ma cosa sto dicendo Pure io Sono impazzito Aiuto Sono impazzito Impazzito Però devo andare a prendere altre persone Cioè Dico altri scheletri E mi dissocio Dico persone su minecraft Massimo E scheletri su minecraft Sempre Si parla ovviamente Sempre su minecraft E Morite Per fare Cioè nel senso Su minecraft Ovviamente Questa cosa Comunque è un meme Ormai su minecraft Cioè nel senso Ovvio Che sia su minecraft No Stiamo giocando C'è un pugnalone Thorne Ok grazie Però io la spada inaderite Non me ne faccio niente Del thorn Senza offesa Eh Qua c'è un formaggio Che però si chiama Mela d'oro Vabbè Ok Non so come questo sia possibile Però Va bene Facciamo Facciamo finta di niente Sbloccati Schifosa porta Scurreggiona Oh yeah Perfettamente Adesso andiamo anche Al prossimo dungeon Dove c'è Ci sono altri scheletri Chiaramente Delle casse Altri scheletri Altre casse E insomma Devo dire che si sta ripetendo Un attimo Infatti si chiama Infinity dungeon Ma io non vorrei dire Però insomma C'è nel senso Ha un po' rotto le palle Questo infinity Cioè nel senso È sempre la stessa cosa Dovrebbero cambiare un attimo Nonostante Comunque Sia Insomma un po' così Particolarmente strano Oddio mio Cioè avete visto Sono impazziti tutti quanti E qua Cioè Mi odiano Poi comunque Non è normale Come qua Perché mi odiate Cioè ok che vi sto facendo fuori Tutti quanti Però insomma Datevi un po' un contegno No Sì però Datemi Oh grazie Perfetto Datemi questa chiave Perché Ok grazie Vorrei vedere però Perfavore un'altra cosa A parte Altri scheletri Cioè mi prendono per il sedere Per forza Muori Perfetto Perfetto Muori Adesso vi distruggo tutti Tutte quante Schifose Scurreggioni Maialoni Berboni Scrazzoni Perfavore Vi chiedo scusa Cioè nel senso So che Questa cosa potrebbe essere Un po' cringe E infatti Chiedo scusa Per questo motivo qua Potete per favore Darmi una prossima chiave Darmi altre cose Che non ho mai visto Grazie No perché sta diventando Un po' ripetitiva La situazione Sai com'è Sto facendo un video Dovrebbe essere Questo invece Ha un'altra cosa in mano Beh caspita Cambia tanto Dopotutto Se ci pensate Ma che Ma avete visto Ma sto qua Ha i poteri Cioè Raga Che figata Devo distruggerlo Dammi i tuoi poteri Datemi i vostri poteri Li voglio tutti Perché io non posso avere I poteri del fuoco Mangia 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 C'è uno scheletro Fantasma No vabbè Che figata Raga Adesso sta diventando Invece un po' più Carino Devo dire Mi sono offesa Per gli scorsi dungeon Adesso sta cambiando Perfetto Bene Cioè Avete visto Ci sono anche tipo I scheletroni Con i poteri Che figata Sono troppo contento Mi piace troppo Dammi la chiave Che non ti meriti Nemmeno di un degno sguardo Prossima stanza Siamo alla stanza 12 Non so se Se ti può fare Una serie di questa cosa Perché secondo me Sono un po' Ripetitivi Scrivetemi voi Se volete Vedere altri video Di questo genere Su questo dungeon qua Perché si chiama Infinity dungeon È un dungeon Su minecraft Windows 10 edition Non mi ricordo più Come si chiama esattamente Però praticamente Cioè nel senso Di solito Utilizzo la java edition No Comunque con la spada Inaderite porca puzzarda Distruggo tutti quanti Tutti li distruggo Scurri i giorni Che non siete altro Grazie Ok Dove sono i prossimi Comunque qua è tutto buio Non vorrei dire Non è bello Vedere tutte le cose buie Insomma Cioè nel senso Soprattutto per me Cioè per me Non per me Però dico per voi Per voi che siete su youtube E youtube oscura Sempre tutto Purtroppo Non si sa perché Però oscura tutto Dammi la chiave Grazie Della chiave Gentile Persona che non sei altro Ok Ultimo dungeon Che vediamo oggi Vediamo un attimo Quale Di che dungeon Si tratta Beh devo dire Più o meno Sempre simile Ci sono sempre Gli stessi poteri Raga Ma che caspita Ma avete visto Questi qua sono pazzi No 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 Qua ci distruggono Sono stato ucciso Ok però abbiamo Altre tre vite Quindi buono Più o meno Insomma Cioè Buono più o meno Anche perché Morite Morite Dai per favore Muori tu schifoso Dov'è il coso Che tira cose Perché se no Il coso che tira cose Ok perfetto Se no poi dopo qua Ci distruggono tutti quanti Raga è difficilissimo Cioè nel senso È una roba impossibile Via scappiamo 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 Mangia tu Ma che cosa Non sta mangiando raga Non sta mangiando Ma perché non sta mangiando No io letteralmente Sto premento per mangiare Non sta mangiando Perché non mangia Ma è deficiente Ma dai Ma mangia Scusami Cioè ha fame Non mangia Sto qua Boh Vabbè Ah perché in effetti Non ha fame E allora recupera vita No Boh Non lo farò Vabbè Sono sconvolto Totalmente Vieni qua Scheletro schifoso No 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 Dove sei finito Tu Allora tu Muori Grazie Ok perfetto Ho un cuore Ho letteralmente Un altro cuore Via Dietro front Dietro front Immediatamente Via Dai Per favore È troppo complicato Raga veramente Cioè Come si fa Ma avete visto Cioè stracomplicato È sto dungeon Ma veramente Cioè io sto morendo Cioè ho la spada inederite Non serve a niente La spada inederite In questo dungeon Ma proprio a niente Dove sono Vi odio a tutti quanti Dammi la chiave Che devo Devo prendere Oh Perfetto Io direi che però Per questo video È tutto quanto Vi ricordatevi Di iscrivervi al canale E lasciare like E Commentare Con Chiave Dammi la chiave Nei commenti Dammi la chiave Così Ci daranno la chiave Sti schifosi Ciao